Ciao, nella prossima puntata di SOS Genitori di Tecnica della Scuola parleremo di Ikikomori. Troverai il video venerdì sul canale YouTube di Tecnica della Scuola. Non perdertelo. Ciao e benvenuto a questo nuovo video di SOS Genitori. Oggi parleremo di una tematica abbastanza recente, abbastanza particolare, molto richiesta, che è quella degli Ikikomori. Dico molto richiesta perché tramite i canali di tecnica della scuola sono arrivate diverse richieste di questa tematica. Alcune relative più ad un approfondimento della tematica, altre invece che puntavano più all'analisi del problema per capire se in casa loro ci fosse questo tipo di problematica. Quindi direi che il caso di procedere per ordine è iniziare da un primo punto, ovvero che cos'è questo Ikikomori di cui si sente parlare sempre più spesso. Il termine giapponese Ikikomori viene coniato dallo psichiatra Tamaki Saito e fa riferimento ad una volontaria esclusione della persona o ritiro della persona dalla vita sociale, relazionale, la perdita di interesse. E spesso, diciamo, volendo creare un'immagine, vediamo quella del ragazzo chiuso in stanza che sta tutto il giorno al computer disinteressandosi della scuola, degli amici, di possibili partner e dei rapporti con i genitori e con i pari. Quindi vediamo questa sorta di ritiro come un guscio in cui il bambino si va, il bambino e il ragazzo, si va a rintanare allontanandosi da tutto il resto. Chiaramente questa è un'immagine stereotipata, quindi ha un fondo di vero, ma ogni caso è diverso, ogni caso ha le sue peculiarità, non basta trovare questa immagine o rivedersi in questa immagine per parlare di Ikikomori. Però è chiaro che se vedo mio figlio chiuso in camera, che non interagisce, che si allontana dal contesto scolastico, che si allontana dal contesto dei pari, che qualcosa non vada, posso immaginarlo. Non è detto però si tratti realmente di Ikikomori. Infatti questo ci porta a una seconda fase, a una seconda punto di analisi, che è quello di discriminare tra Ikikomori e tante altre condizioni potenzialmente pericolose, potenzialmente patologiche, potenzialmente indici di sofferenza per il ragazzo o la ragazza. Dico ragazzo perché l'Ikikomori si manifesta principalmente a maschi, però non è detto che una ragazza non possa essere un Ikikomori. Dunque, come ho ribadito più volte, la diagnosi spetta al professionista. Quindi dal momento in cui io vedo che c'è questa condizione, vedo che mio figlio è chiuso in stanza, non ha rapporti sociali, si ritira da scuola o si è allontanata da scuola. Ho bisogno di altri elementi per poter capire se stiamo parlando di Ikikomori o di qualcos'altro. Perché questa stessa immagine stereotipata, quindi del ragazzo chiuso in stanza, che non interagisce, può essere sintomatologico di un caso di depressione, o di fobia sociale, o di problemi di personalità, o di problemi del versante psicotico, e chi più ne ha più ne mette disturbi d'ansia, e così via. Quindi poter creare una reale discriminazione per fare diagnosi differenziale, ci serve per capire qual è realmente la strada più adatta da seguire, e l'autodiagnosi è sempre sconsigliata. Un elemento di forte elemento differenziale tra l'Ikikomori e le altre condizioni elencate prima è quello che nell'Ikikomori si nota un allontanamento, un ritiro dovuto a una forte apatia e disinteresse, a differenza, ad esempio, della fobia sociale, dove la base del comportamento evitante è una paura di relazionarsi con gli altri. Però, per il genitore, cercare di discriminare mio figlio in chiuso in stanza per questo motivo o per questo motivo rischia di essere non solo pericoloso, ma addirittura deleterio, perché per poter discriminare questa condizione vuol dire che il genitore farà delle domande, diventerà più intrusivo, e partendo con le migliori intenzioni rischia di aggravare in realtà la circostanza. E quindi, io genitore cosa devo fare? Se vedo una condizione del genere e mi rendo conto che mio figlio o mia figlia sta male, non posso non intervenire. E io sono d'accordissimo, contengo su questo. L'intervento migliore è quello di rivolgersi ad un professionista, evitare più di possibile l'autodiagnosi, e soprattutto, in un caso potenzialmente di Ichikomori, mai come in altri casi, è importante rivolgersi a un professionista molto aggiornato. Perché la condizione dell'Ikikomori, che fino a poco tempo fa era conosciuta solo nel paese del Sollevante, tuttora in Occidente, viene etichettata da molti come una semplice fobia sociale. Semplice nel senso che la fobia sociale è un fenomeno già conosciuto, studiato, di cui abbiamo protocolli di lavoro e così via, e spesso e volentieri si tende quindi a screditare l'ipotesi di una diversa condizione. O meglio, questo avviene nei professionisti non aggiornati, che si basano su dati degli Ichikomori ancora vecchi. Solo che quando parliamo di una condizione così recente, quando parliamo di dati vecchi, parliamo di dati di 2-3 anni fa, non stiamo parlando di dati di 20 anni fa. Quindi mai come nel caso di un possibile Ichikomori, è importantissimo che il professionista che scegliamo sia molto aggiornato. Così potrà avere gli elementi necessari per fare una reale diagnosi differenziale, discriminare tra un Ichikomori o un'altra problematica, e da lì impostare il tipo di lavoro da fare, che potrà essere svolto con lui o con lei in studio, o potrà indirizzare verso delle strutture, o verso delle associazioni ad hoc che lavorano in quel campo. Ad esempio, negli Ichikomori c'è un'associazione italiana Ichikomori che lavora esattamente in quell'ambito. Ma prima di rivolgersi all'associazione, è importante che ci sia una valutazione ben fatta a monte. Come sempre, in questa rubrica, mi muovo partendo da un presupposto però, che non si può dare come unico suggerimento, come unico consiglio, come unica parola di conforto a un genitore, no, guarda, fatti indietro, fatti da parte, e rivolgete allo specialista, rivolgete allo psicologo. Perché è chiaro che considerare il genitore o i genitori come degli elementi di disturbo quasi, all'interno di una condizione familiare, non è funzionale e soprattutto non è neanche veritiero. Sono molti infatti gli interventi che richiedono la partecipazione attiva degli genitori nel migliorare una condizione di sofferenza del figlio. Quindi, cosa puoi fare tu per poter leggermente migliorare le cose? Non per risolvere il problema, ma quantomeno per migliorarle. Dato che, come detto, la condizione, mio figlio chiuso in stanza, che non interagisce, che sta al computer tutto il giorno, che si allontana dalle relazioni, può essere indice di tantissime cose, dobbiamo trovare un piccolo fattore comune a tutte queste cose, in modo che il consiglio, il suggerimento sia valido, altrimenti rischerebbe di essere troppo, troppo generico. Bene, in tutte queste condizioni, nel depresso, nel fobico, nell'ikikomori, o nel disturbo di personalità e così via, il tentativo, diciamo, generale del genitore è quello di cercare di spronare il figlio. Cioè, vedo mio figlio, che sta tutto il giorno a casa, e allora gli dico, senti, vai fuori, senti gli altri, contatta i tuoi amici, ma perché non stai andando a scuola? Cerco di spronare, spronare, spingere il più possibile. Ecco, il suggerimento che posso dare, a cuor leggero, è quello di interrompere, questo meccanismo, perché, più sprono qualcuno, per fare qualcosa, che non vuole fare, più quella persona, in questo caso il ragazzo, mi vedrà non come un suo alleato, ma come un nemico, come qualcuno da combattere, come qualcuno da cui allontanarmi, o a cui nascondere le cose, perché non mi sento né capito, né aiutato, né supportato. D'altronde, se hai provato a spronarlo una, due, tre, quattro volte, e non ha funzionato, è molto probabile, che la quinta volta, continuerà a non funzionare. insistere su quel meccanismo, non risolvere il problema, e non fa altro che alimentare, l'astio e l'attrito, tra la figura genitoriale, e il figlio, che si tratta di chi comori, o che si tratta di qualunque altra condizione, che genera comunque, sofferenza al ragazzo. Quindi, interrompere, in questi tentativi, di spronare, a fare le cose, e cercare di avere una, dinamica, molto più di avvicinamento, molto più paziente, molto più, in punta di piedi. Che cosa fai, in stanza? Coinvolgimi, in quello che fai in stanza. Non è facile, ma è sicuramente, una via più funzionale. Ok. Detto questo, chiaramente, la tematica dell'Ikikomori, o tutte le altre, problematiche citate prima, sono molto complesse, e approfondirle, su video di YouTube, trova sempre, un po' di difficoltà, perché vorrebbe dire, fare discorsi, o eccessivamente tecnici, e non è questa la sede, o risultare, troppo, poco tecnici. Io ti invito, come sempre, se hai domande, sull'argomento, se qualcosa, è chiara, se ci sono stati dei punti, in cui, non hai capito bene, non hai colto bene, un passaggio, a scriverlo nei commenti, sarò ben lieto, di rispondere, poter approfondire, maggiormente, la tematica, oppure, utilizzare i commenti, per suggerire, altre tematiche, di cui vorresti sentir parlare. Detto questo, ti invito, come sempre, a condividere questo video, se è importante, che sia importante o interessante, e a cliccare sulla campanellina, così da rimanere aggiornato, o aggiornata, su tutti i video, che usciranno per tecnica della scuola, qui sul canale di YouTube. Ti ringrazio per l'ascolto, ciao, e una buona giornata. Grazie.